good morning anche se direi mattina sono le 11 e 10 questo è uno dei report fatto più presto in tutta la mia storia mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 31 2022 and it's a monday in naples i think 53 54 fahrenheit around 12 celsius and it means that see ecco la giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo ma non con i picchi che abbiamo raggiunto due tre giorni fa con addirittura zero gradi durante la notte poi come ripeto sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile o quantomeno di combatterlo sì il video sui pensieri eventualmente lo faccio separato da questo ma non lo so perché non so se ho cose realmente da pensare ma anyway as you just see from the window absolutely like yesterday today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine come vedete come vedete tutti totally cloudy e qui credo potrebbe andare anche verso la pioggia più tardi ma ma vediamo vedremo it's a clear morning in this sense in questo senso c'è chiaro che che potrebbe andare verso la pioggia questa mattinata verso il pomeriggio ma vedremo i think that this afternoon he'll be going up to sempre con questa temperatura insomma tanto pomeriggio praticamente qui è tra un'ora visto che tra un'ora e mezzogiorno si dice che è pomeriggio comunque inutile dire la frase cult che non penso le cose possano cambiare said this so from the mythical window with the car and the curtain bella con questa inquadratura ma comunque non totalmente bella come sapete a causa del tempo and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel the reports si un saluto veramente a tutti faccio un saluto speciale a una new intro a un nuovo iscritto di ieri che ho notato ieri isaia schmidt ciao isaia spero ti possa piacere insomma tutti i contenuti che propongo non solo il meteo si poi Iusef ho letto di sfuggita la poesia che è scritto ma lo leggo meglio poi ti faccio sapere in descrizione nel commento oppure nel video nel aeroporto di domani o nel video di pensieri di dopo se lo faccio diciamo che cosa ne penso spero di sfuggita già mi sembrava bella so again a great day in all these people and everyone to si mi raccomando il video sui pensieri appunto eventualmente separato da questo è a great day Grazie.